Stamattina all'Arenella lo street artist Yorit è stato vittima di un'aggressione da parte di un esponente della destra ed è stato salvato dalla popolazione. Lei cosa si sente di dire? Noi già abbiamo contribuito a salvarlo quando è stato arrestato perché dipingeva quell'orrendo muro che separa e che ingabbia la Palestina. Noi stiamo con Yorit senza sé e senza malo, ho incontrato qualche giorno fa mentre completava il Che Guevara a Taverna del Ferro, sta facendo un'opera straordinaria di rigenerazione di luoghi anche tristi che stanno diventando sempre più belli. Quella è creatività, è un artista di strada, è un ragazzo eccezionale che ha tutta la nostra solidarietà di fronte a un'aggressione squadrista.